Servalli, tutto sommato possiamo dire un pomeriggio abbastanza tranquillo? Sì, sì, una partita tranquilla, alla fine di rischi non ne abbiamo avuti, anche le parate che ho fatto alla fine erano parate comode, quindi grazie alla difesa si è riusciti a non subire molto. La tua parata è un pizzico più difficile delle altre? Ma sì. Forse quando sei uscito in anticipo nel secondo tempo, credo su Barone. Sì, era una palla un po' a mezzo e mezzo, non si sapeva se uscire o aspettare e giocarmi l'uno contro uno, ho visto che secondo me riusciva a arrivarci, ci sono arrivato a pelo, avevo un po' tentennato perché essendo già munito non volevo magari rischiare di rimanere in dieci, magari toccandola di mano, facendo un mezzo fallo, però è andata bene. Senti, tu sei uno degli under di questa squadra, chiaramente devi sentire, ma credo che la senta tu fiducia da parte sia del tecnico che dei tuoi compagni. Sì, no, la fiducia non è mai mancata, anche in queste due settimane magari che le prestazioni non erano al top, ho avuto la fiducia sia dal mister che soprattutto dai compagni che mi hanno aiutato dal primo all'ultimo. Il fatto che il tuo compagno di reparto, Mercorelli, sia stato scolificato per quattro giornate, poi ci sarà il ricorso, vedremo come andrà a finire, ti responsabilizza ancora di più? Responsabilità ci sono sempre, sia che c'era oggi che non c'era, quando scendi in campo c'hai sempre responsabilità di far bene.